Benvenuti a tutti, Gerald Butler e Vin Diesel scelti per l'adattamento di un famoso videogioco. Ah, quale? Ne parliamo dopo il video. Cain & Lynch, adattamento cinematografico del famoso videogioco, potrebbe arrivare al cinema. In passato, i nomi che circolavano per interpretare i ruoli dei due psicopatici protagonisti del franchise erano quelli di Bruce Willis e Jamie Foxx. Però, stando a quanto riporta Collider, la situazione è cambiata un'altra volta. Facciamo un passo indietro. Innanzitutto, il regista del progetto non sarà più Simon Crane, ma F. Gary Gray, autore di giustizia privata, dove compare proprio l'ex favorito Jamie Foxx. Al suo fianco, però, nel film, recitava un altro gigante dell'action movie, come Gerald Butler. Ad oggi, coincidenza o meno, Gerald Butler pare essere in prima fila per il ruolo di Cain. Al suo fianco, udite udite, potrebbe esserci Vin Diesel, al quale andrebbe il ruolo di Lynch. Sarà vero? Chi lo sa, staremo a vedere. Questa era la notizia di oggi. Voi ricordatevi di visitare il nostro nuovo sito filmisnow.com e noi ci rivediamo alla prossima. Grazie.